ragazzi cos'è che dovevo vedere a mario 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 beh parte la cringiata alla bellucci vorrei vedere lui che piange per aspetta ecco dragon ball budokai tenkai c4 non serviva come dal bimbo come piange che gli hanno toccato il ruzzino voi dite sempre non esce nulla di nuovo e poi esultate per budokai tenkai c4 e non per compagno virus 3 bravi mio padre karim non avevo visto questo pezzo mio padre mio padre che cazzo me ne fotte di compagni si è rovinato per sta reagendo al mio al mio video ma già la mia reazione di olgen dato col terzo per me c'è era già rovinata la saga di tenkai c3 ci sono i personaggi che si trasformano portare ispetto si usa anche l2 stavolta o ma che dice i tenkai ci sono i migliori il 2 e il migliore è questo lo sappiamo tutti poi il 2 e il migliore il terzo già ai tempi quando si giocava tutto tutti dicevano boh per me il 3 meglio del 2 però pure questa cosa non ci sono più le mezze stagioni il 2 è meglio il tenkai c2 era il migliore o black è il portiere più forte del mondo ma cosa c'entra il pallone però poi ho provato raging blast ho provato raging blast 2 e tutte cagate vero il ricordarsi raging blast è un ce lo ricordiamo tutti tutti i fisici li ho avuti tutti tutti vabbè di otobi se la prende sempre più motivi per cui non se la prende nessuno lasciati mario col cazzo col cazzo io do ragione agli otobi topperia non me ne frega un cazzo nostalgici di merda forse l'ultimo è il fighter grazie hubo grazie mi sembra di flat e carattino il sex e 92 e io vorrei capire siete contenti del nuovo tenkai c perché comincio io per perché c'è perché il miglior gioco di dragon ball che sia mai esistito ma vattene affanculo mario ma vattene affanculo online e qual è il gioco più bello di dragon ball vorrei far notare a tutti c'è poi mario se mi stai guardando succhiami le palle allora io non so giocare picchiature no quindi non lo gioco fighters non lo gioco ma te che sei tanto appassionato i picchiature di dragon ball abile palle di imparare a leggere i framing fighters e giocaci coglione invece di schiacciare tre bottoni e basta per tutta l'intera run e ovviamente lo dico con un indice di rischio perché potremmo alla fine essere scammati scammati e non è realmente tenkai c3 però chi è mario di merda su chiami il cazzo ma fa cura se l'inter è stata la vedete la c'è più che mi ritrovo cosa voglio vedere le trasformazioni le fusioni nuove punto che ti piace quanto così mi ricordo l'infanzia in sicilia mangiare i cavalli cosa che prendi in giro la cassata con babbo pezzo di merda succhiami le palle la cassata con babbo quando eravamo molti uniti davanti al televisore catodico la cassata o peter top peter di tenkai c tenkai c è bellissimo perché di 6 ti sei vestito di questa carica malvagia di insultare mario 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 fermo fermo uscita la notizia su every eye ho letto che stavolta forse si usa anche la croce per fare le combo attenzione il cazzo pagliaccio che non sei altro ma che croce è complicatissimo giocare giocare professionale a tenkai c questa cosa del quadrato 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 non solo l'hai detta ma è anche un pessimo insegnamento per chi magari si vuole approcciare a quella merda di gioco e da ascolta la tua boccaccia di merda che non è mai riuscito a giocare a tenkai c tu sei budokai 3 sta vero senti budokai 3 isa aspetta 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 mario senti dove posso comprare una ps2 per inserirmi nella vostra community ma non mi rompere le palle la ps2 eccetera ma la smetti di prendermi in giro e dai valore a tenkai c3 che è praticamente l'infanzia di tutti ma che scelta è mettersi mettersi contro tenkai c è oggettivamente bellissimo ricco di ricco di combo in realtà poi ovviamente il roster ci sono delle cose che non vengono del 2007 ma non è vero maio quadrato mario quadrato mario mario senti ma nel 4 inseriscono chi burrotto che sfonda qualsiasi altro personaggio che la gente vuole selezionare ma non è vero pure questo è un luogo comune kitb non è rotto è un valido personaggio ma si ma si spacca nel meta non è forte sta cosa di kitb lo dicono è kitb la combinazione mistica ma perché non sanno giocare come a te che sei un topone di fogna che mi tratti male il mio gioco preferito adesso lo sai che faccio vengo là dove sei ti mangio la faccia senti mario ma nel 4 che devo sentire così me ne dice un'altra senti mario ma ci saranno le le mod degli spagnoli col podere proibito per dare dignità a un gioco di merda oppure no secondo te in questo 4 capito adesso mi sta cominciando a ferire sul serio è godo ma che godi che ferisce un tuo amico ma come cazzo di percorso come sia il mio amico che non mi chiami più da mesi ma no guarda ti ho chiamato e vabbè per dirmi di poter che casi 4 quel gioco di merda dai organizziamoci dai organizziamo un appuntamento fisso nel senso che se non ci sentiamo la nostra amicizia è perduta ma col cazzo te ne ho già dati troppi di prime suca dai ma che vuol dire sta cosa dei prime si è offeso perché non lo chiamo poverino con un tubo catotico io non l'ho visto con un tubo catotico che cosa ha detto che cosa ha detto catotico catotico con un tubo catotico il tubo catotico io non l'ho visto come si dice che adrodico il 3 ma poi continua a mettere l'audio nelle casse che fa eco mettiti delle cuffie ha già che c'è agli aghi nelle siringhe nei capelli non è vero grazie nicolaus e becca un 13 forse 15 pollici 4 terze crt che fa vedere i vecchi budokai tenkaici ecco che cos'è come si ricorda dell'infanzia con la cassata con suo padre c4 è una nostalgia weapon totalmente dritta come se fosse veramente un'arma ultrasuoni e lui vuole solo una cassata mario vuole solo dategli la cassata la cassata nel senso il dolce valermitano e quindi ha capito ha capito che adesso l'ha presa l'ha preso i contropiede michele perché non sa giocare a fight non deve essere quello perché non può esserlo per definizione lo stile completamente libero ma come stessi titolo 40 per nulla ampio esteso di quello che è però che mamma fammi vedere una cosa aspetta in culo vaffanculo a ok non sta cercando ma perfetto come aspetta rail ma che è sta cosa che sta facendo ma che senso ha sono due giochi diversi sono due giochi diversi ma che cazzo paga ma è un buffone così si fanno le cose marione ma guarda così mamma mia che meraviglia cazzo che meraviglia faccia di merda che si ritrova guarda che faccia di merda puntalo dentro bellissimo tutta la scena hanno fatto che dite la smettiamo di reagire cioè mi sento anche un po' in colpa cioè gli stiamo sto streamando la sua live adesso non sta nemmeno reagendo a me forse dovremmo smetterla che dici la smettiamo eh capito stavo praticamente freebootando guarda la guarda data che gli scrive in chat cacarot nel puzzorot quel cretino guarda possiamo giocare a quel gioco parli di fighter z dai lo compra adesso dove è a 5 euro col dlc immagino dlc vai al carrello paga paypal pagamento veloce acquisto completato ma è cacarot questo? oddio brutto pussa via non voglio bella la scena cazzo fammi vedere non l'ho mai vista ah no ma dai ma fammi vedere dai era bella la scena eh che pare però fa cacare come dragon ball ball kind e kashi 3 di gameplays hey fed in grey grazie 3 come il miglio budokai minore 3 grazie per il terzo mese il miglio budokai dai il migliore tenkai si ragazzi è troppo bellox l'ho scaricato no devo impararci a giocare mare ma pu**a io veramente rosico eh tocca impararci a giocare perché sennò qui è un casino mi girano le coglioni dio cristo non sapere giocare a questo gioco è impossibile ha ragione mario devo iniziare a giocare a budokai tenkai 3 almeno sono tre tasti più buona pao ottenzione spacco tutto a bene o sì aveva una forma di complessità molto figa ma aveva i classici 100 personaggi di cui 76 sono gli stessi ma andava benissimo perché noi giocavamo a budokai tenkai c quando avevamo nei nostri ricordi final fucking bout che era ovviamente final fucking bout ma che cazzo stai dicendo michelone un parallelo molto infelice oppure ultimate battle 22 io li ho giocati il capo dei videogiochi kc frate come karim cioè in questo siamo fratelli quindi il final bout che zotta budokai tenkai c'era il sogno incredibile mentre si stava sviluppando l'idea di quello che sarebbero stati i giochi del futuro il fatto è che paradossalmente i giochi del futuro sono passati da un obliore a fighters che invece è un picco pazzesco quello che dovrebbero fare sarebbe non abusare dell'effetto nostalgia non fare un altro fill in della stessa roba che tanto comunque fa venire la voglietta ma buttarci dentro un po' di vera complicazione tecnica da picchiaduro e in quel caso potrebbe uscire speriamo ma io guarda questa cosa qui non deve essere fraintesa perché io parlo del 3 io voglio che il 4 sia una bomba cioè io voglio che prendano tutte quelle milioni di trasformazioni personaggi eccetera che comunque ci daranno con 3000 DLC eccetera però che complichino un po' la situazione che facciano una cosa di più complessa ma temo di no ho comprato i DLC senza il gioco fighter z o ultimate edition? che differenza c'è? fighters esisten dragon ball fighters fighters esisten edition ce ne sono un macello dipende pure di genere di picchiaduro che è se tu prendi uno street fighter o prendi un Tekken quelli sono fatti per appunto per la scena competitiva e sono da sempre praticamente utilizzati per le competizioni se prendi un gioco che è praticamente basato su un'opera manga anime devi poter anche qui mettere nel contesto appunto dragon ball persone che magari giocano poco o che non giocano il genere o che non giocano proprio non necessariamente quindi secondo me secondo me c'è poco da dire la gente si aspetta un remake di non ma che cazzo il commento è? ho preso il season pass 3 devo prendere la fighters edition ma che dice mario? ma che dice mario? ma che dice mario? scusami ma ha detto un'opinione ma dimmi se sei d'accordo se sei in disaccordo ma che cazzo di ma che cazzo di guadagno alla discussione c'è se Frost ti ha appena detto la sua riguardo il picchiaduro anime like manga like guardo la chat e mi dici che c'è il cazzo a barattolo ma che cazzo me ne frega? ma che cazzo di utilità ha il discorso? questa cosa? fighters è un gioco di 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 lotta dai dimmi che cazzo di che tipo di cazzo c'ha Karim forza ma guardate all'1.30 c'è il cazzo a barattolo completamente annullato quello che ha detto la sua cazzo di opinione però proprio guarda come si diverte molto piccolo esagerare oi 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 cimoio 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 nel suo essere un gioco di grano io aiuto secondo me aiuto tanto di rimanere molto slegati ma non era tanto la cazzata del cazzo a barattolo il contesto Mario che si incazza la campagna grazie di avanti per far giocare tutti la campagna oh l'ho scaricato fai del 6 budokai 3 è la versione la versione conclamata definitiva di budokai 3 oppure penso che ce ne sia un altro che sia anche più più simile ma mi sfugge il nome che comunque quello è erede di budokai 3 un pochino più moderno di Tenkaichi 3 invece a me cioè io io non vorrei un'evoluzione un salto di qualità tra budokai 3 e esatto Infinity Ward una cosa del genere tra Infinity Ward e Fighters budokai e Fighters che facciamo giochiamo un po' a Fighters prima di di One Piece più che altro vorrei imparare come si impara easy si chiama Sergio Sergio vuoi venire per me va bene come ti chiami su Discord quindi quello che dobbiamo fare adesso è andare un po' a fronteggiarci e te mi dici qualche combina io veramente cambierei poco in budokai Tenkaichi 3 sarei contento se solo migliorassero la grafica e mettessero l'internet il multiplayer ma ne parlo anche da profano cioè che non mi immagino cioè lui vuole 3 proprio come si possa migliorare un videogioco quindi per esempio un Sabaku no Maiku a fare da supervisore da consiglier a questa cosa mi tipo io vi dico vorrei Tenkaichi 4 o Tenkaichi 3 Reboot uguale Tenkaichi 3 però ovviamente ho utilizzato per la nuova generazione più il multiplayer se venisse Sabaku e mi dicesse aspetta un attimo tu non ne sai niente ti fidi se vado io e lo supervisiono io io comunque direi certo ovviamente l'unica cosa che vorrei è che mi presentano un gioco che si chiama Tenkaichi ed è Racing Blast cioè un'evoluzione fallita ma io fare un remake del 3 secondo me non ha senso evolvere in un fallito ma cosa cazzo fai il remake di un gioco così vecchio comunque antiquato da parte di scherzi ragazzi boh secondo me si ok ci uccisole di nostalgici ma poi rimane lì Mento io sarei per il non evolvede niente lasciatelo così com'è ma come però anche questa è un'opinione quello che a me piacerebbe moltissimo avere è antiquato per te io ci gioco ancora sì sì ma io ho un cervello da una se divento forte entra in programmazione sta roba sarebbe molto carino ok è il momento di imparare a giocare a Dragon Ball Fighter Z costruire oh cazzo ma sono l'undici e mezzo sto a sentire il coglione drogato aspetta un attimo un attimo Grazie a tutti.